Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Fare attenzione per il maltempo, ci sono nevicate in corso sui passi delle statali appenniniche. Neve prevista sul tratto appenninico della A1 e sulla A15 tra Fornovo e Pontremoli. Sulla Fipili vento forte lungo tutto il percorso. Personale su strada per lavori tra Livorno Aurelia e Livorno Porto in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Monteriggioni e Badesse in entrambe le direzioni fino al 6 dicembre. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!